Buonasera a tutti, a tutti i consiglieri presenti. Questo è il primo Consiglio Comunale del 2024. Intanto do la buonasera a tutti voi, ai cittadini che ci seguono in streaming. Vi ricordo di spegnere i telefoni cellulari e metterli in modalità silenziosa. Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in streaming sul canale istituzionale. Do la parola alla dottoressa Tiziana Piccioni. Buonasera Sindaco per l'appello nominale. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello. Piccioni Domenico, Del Sordo Arianna, Ripani Giorgio, D'Antonio Alessandra, Ciaffoni Loretta, Figliola Massimo, Recinella Angela, Di Domenico Marino, Branciaroli Maurizio, Cardinale Lanfranco, Cimini Dolores, Di Eusebio Fausto, D'Amelio Libera, Del Sasso Martina, Di Bonaventura Mauro, Carusi Nico, Cartone Franco. Sono le ore 18.06, il numero legale c'è? Apriamo la seduta. Prima di elencare i punti all'ordine del giorno, ci è pervenuta una domanda di attualità del consigliere Libera D'Amelio. Ha cinque minuti di tempo massimo per illustrare la sua domanda di attualità. Prego consigliere, grazie. Lei Presidente, saluto il signor Sindaco, tutta la consigliatura, forse dell'ordine è sempre presente, il segretario comunale che ci ascolta. Mi scuso per la voce, ma un lieve stato influenzale. La domanda è molto semplice, ruberò meno di cinque minuti. Ad oggetto la pianta organica dello staff del nostro Sindaco, in specie per quanto riguarda la figura del signor Marconi Massimo, a tutti noto che a seguito di determina del numero 604 del 21 settembre dello scorso anno, è stato scelto in base ad una valutazione intuito persone, ed è stato inserito organicamente nello staff del nostro Sindaco. Ad oggi è stato anche inquadrato con una contrattualistica full time, da part time, e vengo quindi alle richieste conoscitive, esplorative, in tal senso, sapere in maniera specifica quali sono le mansioni che il signor Massimo Marconi svolge full time per il nostro Sindaco Domenico Piccioni, quindi chiediamo chiaramente su questo aspetto, come mai da part time si sia poi arrivati ad un inquadramento contrattuale in base alla normativa vigente full time, e sempre in quest'ottica vorremmo conoscere se ci sono altri dipendenti e quanti ne sono, né eventualmente ne possano essere, incardinati organicamente appunto nell'ufficio di segreteria del Comune di Tortoreto. Grazie. Grazie consigliera, do la parola al Sindaco, prego. Buonasera a tutti, ai consiglieri, alla segretaria e a chi ci segue in streaming i cittadini. Allora, il Marconi, che è stato assunto prima con un incarico parziale e poi a tempo pieno, svolge la propria attività di norma nell'ambito amministrativo di tutti i servizi comunali, cura i rapporti tra me e gli altri organi politici, gestisce la mia segreteria, cura l'allestimento di cerimonie e di manifestazioni varie, cura la gestione delle relazioni con i cittadini, con i relativi appunti, prende gli appuntamenti per riceverli in Comune, le istituzioni e gli altri soggetti esterni, presidia la gestione dei compiti di rappresentanza e mi accompagna negli attività di rappresentanza. Questo è quello che prevede la legge e che fa per me il Marconi. Dal tempo parziale a tempo full time si è reso necessario perché non era sufficiente le 18 ore. Per quanto riguarda poi la segreteria, il settore numero uno che porta i servizi affari generali, segreteria, notifiche, sport, sociale, materno infantile, pare opportunità e politiche sociali, il personale amministrativo è composto da tre persone, dalla responsabile attuale la dottoressa Salvi Simone, dalla dottoressa Mazzocchetti e dall'istruttore amministrativo Assunda di Ferdinando. Poi c'è tutto il personale dell'Asilo Nido che è sotto questo settore, le funzioni sono molteplici, sono tantissime e si è reso necessario la figura come in tutti i comuni, in tutti i comuni c'è questa figura, anzi in comuni vicino a noi ce ne ha tre o quattro, io non entro nel merito degli altri però era per gestire bene la mia funzione da sindaco. Grazie. Grazie signor sindaco, consigliere D'Amelio è soddisfatta della... È una presa d'atto, grazie Presidente. Grazie. Allora a questo punto passiamo all'elenco dei punti all'ordine del giorno. Allora, l'otto febbraio sono stati mandati via PEC a tutti i consiglieri i due punti che riguardano il settore tecnico. Il primo punto, società cometa real estate SRL, richiesta di attuazione intervento unitario su ARPE, ambito residenziale con prescrizioni esecutive, di piano regolatore generale, su terreno di via Sirena, via Bologna, distinti in catasto con i mappali numeri 213, 435, 966, 967 e 968, del foglio numero 32. Il secondo punto, costituzione di servitù onerosa permanente e temporanea di metanodotto a favore di SNAM, Rete Gas e Società per Azioni, su terreni di proprietà comunale distinti al catasto terreni del Comune di Tortoreto, al foglio 118, particella 73, 115, 116, 460, 924. Ed in data 16 febbraio è stato integrato un terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione del nuovo regolamento disciplinante l'attività di commercio sulle aree pubbliche, comprese le aree ricadenti nel demanio marittimo. Vi ricordo l'articolo 78 nel primo punto all'ordine del giorno. Si devono astenere parenti o affini fino al quarto grado di parentela. Non ci sono. Benissimo. Allora, passiamo a discutere il primo punto all'ordine del giorno. Società cometa real estate SRL, richiesta di attuazione intervento unitario su ARPE, ambito residenziale con prescrizioni esecutive di piano regolatore generale su terreno in Viale Sirena, via Bologna, distinto in catasti con i mappali numero 213, 435, 966, 967, 968 del foglio numero 32. Relaziona il consigliere Massimo Figliola. Prego. Sì. Grazie Presidente. Buonasera alla segretaria comunale, al sindaco, a tutti i consiglieri e al pubblico che ci ascolta, sia da casa che qui in sala. Allora, parlevamo della società cometa real estate. Il vigente piano regolatore generale e la variante dello stesso, adottata con delibere di consiglio comunale numero 16 del 2023, invidiano all'interno del territorio comunale e delle adu, ambito soggetto a disegno unitario, con apposita perimetrazione che costituiscono ambiti di intervento di iniziativa pubblica e privata, soggetto a disegno unitario, entro i quali il rilascio di titoli abilitativi e subordinata alla formazione di piani attuativi, cui l'articolo 30 del NTA. Gli adu, ambiti soggetti a disegno unitari, si suddividono a sua volta in arpe, ambito residenziale con prescrizione esecutiva, e api, e apo, ambiti produttivi e operativi. La società cometa, real estate SRL, ha presentato in data 4 novembre 2022, protocollo 35512, una proposta di intervento unitario per l'attuazione di un'arte residenziale con prescrizione esecutiva su terreno in Viale Sirena, via Bologna, distinto in catastro con i mappali numero 213, 435, 966, 967 e 968 del foglio numero 32. L'intervento unitario, così come riportato negli elaborati progettuali allegati, alla richiesta la società comprende sia i lotti edificabili, sia le aree oggetto di cessione al comune, secondo gli standard previsti dal DM 1444-68 e dalle norme del PRG, la cui sistemazione sarà cura e spesa della stessa società per un importo complessivo dei lavori pari a euro 85.700 euro, circa, desunto dal computo metrico calcolato in base al vigente preziario regionale. L'ufficio urbanistico ha proceduto alla verifica della titolarità e della disponibilità dei terreni interessati nell'intervento unitario da parte della società richiedente e alla verifica di conformità urbanistica dello stesso. L'approvazione dell'intervento unitario non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata a carica del bilancio comunale, né oneri riflessi indiretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'ente e la sua attuazione, è subordinato a stipula di convenzione urbanistica che potrà avvenire solo dopo l'acquisizione di tutti i pareri di enti sovraccomunali coinvolti del procedimento istruttorio. anche perché questa cosa l'abbiamo vista in commissione, l'abbiamo guardata bene, quindi se ci sono qualche richiesta da fare, qualche delucidazione va bene. Si chiede quindi al Consiglio di pronunciarsi in merito alla richiesta. Grazie. Grazie consigliere Figliola. È aperta la discussione. Chi vuole intervenire? Il consigliere da meglio, prego. Sì, mio intervento assolutamente di lode rispetto ad un'attività interventistica del privato che evidentemente ha interesse ad una visione espansiva del nostro territorio tortoretano e quindi dinanzi a delle iniziative di chi ovviamente vuole intervenire e vuole investire sul nostro territorio tortoretano non può che essere data l'odio di ciò. Un rilievo, ciò non di meno, lo devo fare perché è una realtà imponente. L'abbiamo, come giustamente diceva il consigliere Figliola, l'abbiamo affrontato in maniera molto puntuale anche in commissione urbanistica. Sono state anche tacitate alcune mie considerazioni. Io ringrazio anche della disponibilità palesata in quella sede. Il rilievo quindi non è a carattere tecnico perché peraltro le fasi come giustamente rilevava il consigliere Figliola, le fasi eventualmente autorizzative, abilitative e quant'altro saranno una fase, una formazione, una fattispecie a formazione progressiva che avrà degli step. Il rilievo che questo consigliere vuole portare all'attenzione oggi della Sise Civica è il seguente. Ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale il pubblico, quindi la parte pubblica, in qualche misura è sempre dietro, un passo dietro rispetto ad un'attività di intervento da parte dei privati. Cosa voglio dire? È vero che l'azione politica quasi mai collima quanto a tempi con l'azione amministrativa perché si va a incagliare e sovente in quelli che sono gli anfratti poi di leggi, leggine, decreti e dei vari passaggi che più ne ha più ne metta e della ragione per la quale poi quello che era il vanto di un programma elettorale inevitabilmente si schianta contro l'evidenza oggettiva. A letto di questa giustificazione se vogliamo temporale cioè di una parte politica che non riesce a stare dietro ad una parte amministrativa burocratica che dir si voglia. La parte politica però ha delle responsabilità e mi spiego. L'opera sarà imponente, andrà a riqualificare una zona della nostra Tortoretto che è un po' sotto gli occhi di tutti, che è stata trascurata. Si sono paventate e ventilate diverse iniziative che rimangono un po' nell'alveo di idee, quindi di evocazione quasi non voglio disturbare il platone ma è sostanzialmente un po' un ripossiglio di concetti ideali che rimangono lì. Però è un'area che è stata completamente abbandonata. Questa è una riqualificazione, questa è sicuramente una riqualificazione che da un po' di vista privatistico andrà a dare giusto lustro. Ma la domanda che pongo e vi pongo e pongo ovviamente al nostro sindaco Piccioni perché è egli che dà un indirizzo politico e dà le indicazioni rispetto a quello che è in fieri il divenire di un programma elettorale che è stato, to cure, preso e ribadito anche in questo secondo mandato. A giugno ricordo a me stessa che entriamo nel terzo anno del secondo mandato. Ma dinanzi a questa imponente realizzazione urbanistica che si andrà a riversare sul nostro territorio tortitano e ben venga. I sottoservizi e i servizi che parte fanno? Mi spiego signor sindaco, i sottoservizi sono essenziali per la struttura se vogliamo proprio di una rete civica che poi viene a ergersi. Ma anche gli stessi servizi e faccio una, cito un esempio, una cosa per tutte che può valere per tutte, è affannoso sempre il problema dei parcheggi qui a Tortoreto, signor sindaco. E dinanzi a unità immobiliari a carattere stanziale che verranno persone che verranno a vivere a Tortoreto tutto l'anno o a livello turistico perché non sappiamo quale sarà la ricettività di questa imponente realizzazione che verrà edificata. Dinanzi a questa prospettiva certamente di crescita e anche di riqualificazione, ribadisco, della zona sud, la parte pubblica come risponde? Come risponde? Noi abbiamo la parte centrale di Tortoreto che poi dovrebbe essere quella che dovrà andare a raccogliere anche, di cui dovranno e dovremo sempre fruire in massima parte anche nei prossimi anni. Eppure già citando solo il problema affannoso e annoso dei parcheggi, noi andiamo a implementare le costruzioni sul nostro territorio, quindi ulteriori unità immobiliari che verranno a riversarsi sulla nostra zona, sul nostro territorio, ripeto, riqualificando quell'area e i parcheggi e i sottoservizi. Questa considerazione va fatta perché, vedete, il programma elettorale è un po' il verbo, è un po' la Bibbia che voi avete a tutti quanti noi propinato proponendovi per questo secondo mandato. Però, signor Sindaco, io questo rilievo critico mi devo consentire e glielo devo fare. Noi non abbiamo visto nulla, non abbiamo visto ancora nulla. E allora mi domando a lei, perché lei che ha la gestione e il polso sulle nostre realtà territoriali, quanto ancora? Tortoreto deve aspettare. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Signor Sindaco, prego. Per quanto riguarda l'attività edilizia, è prevista ed è codificata nel piano regolatore. Noi non è che possiamo bloccare lo sviluppo del nostro territorio. Per quanto riguarda quella zona, come ha potuto ben osservare, è una delle zone a maggior respiro per i servizi. C'è un parco di 3.500 metri quadrati, ci sono i parcheggi pubblici da una parte e poi che andrà a completarsi perché lì c'è un comparto che arriva fino alla ferrovia, praticamente, che è presa dalla stessa ditta. Per quanto riguarda invece i parcheggi, in senso la carenza dei parcheggi, lo stiamo vedendo e lo stiamo valutando e tra non molto tempo, non dico né un giorno né un mese, ma tra breve arriverà sicuramente un progetto che abbiamo già iniziato con uno studio dell'architetto Mattei, dove sarà un vando pubblico per far sì di trovare parcheggi e sistemazione di aree a noi, a noi tortoretani tutti, molto cari, molto a cuore, tipo la piazza della Chiesa. Un po' di pazienza e cercheremo di portare avanti quello che abbiamo dichiarato nella nostra campagna elettorale. Sono i tempi tecnici, i finanziamenti che stiamo cercando di riferire, oltre a quello che mettiamo di noi. Poi, se so, posso dire per così, noi abbiamo la zona sud dove i parcheggi ci sono, la zona di stadio, l'estate e anche il mese di agosto sono vuoti i parcheggi. Stiamo predisponendo una navetta che dalla zona sud percorre tutto il lungomare e viene fino a Tortoreto. Con questa, certamente, daremo una prima piccola o grande risposta per la prossima stagione estiva. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Qualcun altro consigliere d'Amelio, prego. Grazie, brevissima replica. È evidente che nel piano regolatore e nella variante PRG è chiaro che la mia non era una considerazione su quello che è stato approvato nel piano regolatore. il mio era un modo per dire che si cede spesse volte al privato ciò che nella parte pubblica ovviamente non viene fatto. Ora, progetti, progetti. Dello studio Mattei, grazie, Sindaco, che l'ha citato proprio lei, perché è di vetusta memoria ormai questo piano Mattei pagato anche diverse migliaia di euro che noi tempo fa, diciamo proprio, signor Sindaco, il reggio signor Sindaco, che era stato chiuso nel ripostiglio lì in qualche anfratto, e sono contenta che ogni tanto ad ogni più sospinto all'occorrenza questo piano Mattei viene riesumato. Progetti, progetti. Diciamo che vorremmo vedere la realizzazione di questi progetti perché sono stati cantierati non so quanti progetti e quanti soldi siano stati pagati e spesi per un progetto anche di idee. Io prima ho fatto, ho richiamato, ho disturbato Platone, perché qui siamo proprio nel mondo dell'iperuraneo e non va più bene. Ora, il servizio navetta, qualche spunto me l'ha offerto lei, ma sarò anche su questo aspetto telegrafico, noi non dobbiamo solo guardare all'aspetto turistico. Il turismo non è soltanto nei periodi estivi, lo tornerebbe a dire, perché è fondamentale creare un turismo che sia, si parla sempre di destagionalizzare questo turismo, al di là anche qui di una petizione di principio, io ad oggi non ho sentito, ho ascoltato una sola idea e tra l'altro è mancato anche la volontà di un confronto con le parti che, quando anche di minoranza, evidentemente qualche spinta propulsiva e di pungola la potrebbero dare. Non ho sentito una sola, dico una sola idea, che potesse far parlare di un turismo 365 giorni. La navetta non dovrebbe servire, qualora di grazia si vedrà venire in luce, evidenza, questo servizio non deve solo servire l'utenza turistica, non me ne vorrà l'assessore, ma è stato il nostro signor sindaco che ha tirato questo argomento, non deve soltanto servire l'utenza turistica per 45 giorni pieni effettivi l'anno, ci sono i tortoretani. è una, considerate una frase molto forte, è una barbare quella che stiamo vedendo in un silenzio, in una desertificazione anche di quelle che sono i desiderata anche dei nostri giovani. Tortoretto non è più attrattiva, i nostri ragazzi stanno scappando o peggio, si lasciano andare atteggiamenti di barbarie della nostra città. Allora, questo per me è un aspetto estremamente inquietante, perché noi viviamo nella nostra città, signor sindaco, signori consiglieri, cosa offriamo ai nostri ragazzi per restare? Si sta non solo spopolando il tortoretto, i ragazzi imbruttiscono la nostra realtà con gesti vandalici di non poco conto, non sappiamo trattenerli, non sappiamo creare un circuito scuola, un circuito scuola-lavoro che consenta ai nostri figli di volere impiegare il loro tempo produttivamente nella nostra realtà e mi sento dire che realizzeremo il bus navetta per l'estate che dai camping portino poi i turisti questi, 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 queste bus navette, queste bus navette al centro. È in dubbio, è in dubbio che servono. Pensiamo anche ai cittadini tortoretani. Sì, sì. No, 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 signor sindaco, lei parlando del piano Mattei, sulla piazza della chiesa non entro perché non sarebbe il caso che qui si aprirebbe un altro panegilico molto importante su cosa si vorrà fare con la piazza della chiesa perché non è ben chiaro, io andrò a risumare un consiglio comunale dove lì ebbe a dire delle cose particolari anche sul parcheggio della chiesa e poi si è aperto, l'ha aperto lei il tema, non l'ho introdotto io, su questo del bus navetta. Quando parlavo di parcheggi io intendevo di servizi per la nostra collettività tortoretana e ovviamente in un ampio respiro poi si guarda anche l'aspetto turistico. Concludo, Presidente, che il mio tempo è scaduto, affinché di questi progetti si inizia a dare seria evidenza. Grazie, Consigliere. La parola al Consigliere Lanfranco Cardinale. Prego. Sì, grazie Presidente, saluto tutta la sise del Consiglio Comunale e anche i dipendenti che sono presenti oggi a questo Consiglio. Mi porre l'obbligo di fare alcuni chiarimenti in merito all'intervento del Consigliere D'Amelio e poi vorrei anche precisare che dovremo restare nell'albero comunque di quello che è l'ordine del giorno quindi si parla di una lottizzazione, quindi è bene anche rispettare il funzionamento del Consiglio Comunale quindi cerchiamo di rimanere all'interno di quello che è l'ordine del giorno. Io penso che il Consigliere D'Amelio abbia fatto una grossa confusione tra il pubblico e il privato tra quello che è l'amministrazione e quello che deve fare l'amministrazione. L'amministrazione comunale si dota di un strumento urbanistico, un piano regolatore con il quale viene poi sancito la disponibilità dei suoli per l'attività edificatoria e per quello che è l'assetto del territorio. Nel caso specifico parliamo di una zona importante, quella zona sud di Tortoreto Lido dove un privato ha chiesto di eseguire in ottemperanza a quello che è il piano regolatore un'attività edilizia, quindi parliamo di un piano di lottizzazione che è stato presentato e il Consigliere D'Amelio dovrebbe sapere come si attua una lottizzazione. La lottizzazione si attua con una convenzione, che la convenzione stabilisce i rapporti tra il pubblico e il privato. Naturalmente, soprattutto gli uffici hanno cercato di arrivare a questa definizione soprattutto nell'ottica di salvaguardare quelli che sono lo sviluppo urbanistico della zona. In questa convenzione vengono regolati i rapporti tra il pubblico e il privato. Il privato si assume l'onere di fare, perché lo dice la legge, non solo il piano regolatore perché lo dice la 1444 del 67, stabilisce quali sono gli oneri che il privato deve fare per poter costruire. Quindi il privato si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione e quindi voglio anche tranquillizzare tutti quelli che ci ascoltano che comunque la zona sarà servita con delle opere di urbanizzazione che saranno a totale carico del lottizzante. Quindi parliamo di opere di urbanizzazione e tutti quegli standard perché comunque in quella zona saranno realizzati degli appartamenti saranno insediati degli abitanti e quindi sempre in riferimento alla legge la 1444 del 67 stabilisce che per ogni abitante che si insedia occorrono 18 metri quadri di standard e quindi naturalmente questo garantisce al nostro comune, alla nostra comunità che vengano realizzati questi standard. E per standard vi riferisco anche ai parcheggi, alle aree verdi e tutti quegli servizi che comunque andranno a dotare questa zona affinché sia una zona comunque completamente servita. Qui naturalmente abbiamo una dotazione di standard quindi anche questo è importante che venga precisato che ci saranno dei parcheggi che saranno realizzati dal privato e saranno ceduti al comune a mezzo di una convenzione. Quindi la zona sicuramente ho visto anche, ho avuto modo anche di vedere questo piano di rottizzazione che corrisponde comunque a uno sviluppo della cubatura se non tutta la cubatura, anzi forse realizzata meno quello che si poteva fare ma diciamo che è rispondente pienamente a quelli che sono gli standard che il privato deve cedere. Un'altra nota positiva in quella zona è, come tutti sapete, c'è un'importante villa realizzata negli anni 50 che è stata vincolata dalla subintendenza perché comunque c'è stata un'attività da parte della missione comunale di cui ho fatto parte con il sindaco e anche lì abbiamo avuto la sensibilità di salvaguardare quello che comunque è un'emergenza architettonica un'identità storica che sicuramente gratifica il nostro paese e quindi anche questo penso che abbiamo avuto l'onere di poter salvare un edificio che se non veniva fatto questa attività di concerto con l'amministrazione comunale, con gli uffici e con la subintendenza è stato vincolato e abbiamo salvato un bene al nostro paese perché parliamo di un bene storico e artistico così come è stato anche accettato la subintendenza quindi quell'edificio che vedete sul lungomare, la villa Capanna può rimanere intatta grazie a questa attività che è stata fatta questa amministrazione comunale per cui si integra bene anche col discorso del parco perché in questa lottizzazione, è bene dirlo, sarà ceduto al comune quindi la nostra comunità può entrare a disporre di questo parco perché parliamo anche di un parco storico cioè che sta proprio davanti al lungomare perché se voi percorrete il lungomare a un certo punto a destra trovate un recinto, quel recinto sarà abbattuto e quindi ci sarà la possibilità comunque di usufruire di questo parco che non è un semplice giardino ma è un giardino storico perché è un parco che è nato con il progetto iniziale dell'architetto che ha realizzato questa importante villa negli anni 50 e 60 che rappresenta una testimonianza sia storica che architettonica ma soprattutto di alto livello quindi naturalmente questa è un'operazione che va a riqualificare la zona perché a un certo punto abbiamo la possibilità di avere questo spazio che è uno spazio che tutta la comunità ne può usufruire ma anche a livello turistico perché parliamo comunque di una zona che è prospicente al mare quindi abbiamo anche un waterfront con questo parco che sicuramente si integra bene col discorso anche naturalistico ambientale di sostenibilità perché parliamo di un parco del lungomare e poi la pista ciclabile del mare quindi secondo me è un sistema ambientale integrato che può sicuramente contribuire a riqualificare anche la zona del sud naturalmente non è solo questo che l'amministrazione sta facendo ma sicuramente anche gli altri progetti a cominciare dal piano Mattei adesso mi sembra un po' troppo scomodare il piano Mattei perché lo sta facendo in presenza dei consigli ministri con l'Africa noi facciamo cose un po' più normali un indirizzo esatto, l'indirizzo che se no dovremo chiamare qua tutti i governatori dell'Africa a Tortorello ma non lo faremo perché non siamo così ambiziosi facciamo cose importanti ma non queste naturalmente questo progetto chiamiamo dei parcheggi è un progetto a cui l'amministrazione sta lavorando lo ritiene sicuramente un progetto strategico perché è un progetto che coinvolge comunque tutta la zona del Lido può essere sicuramente interessante lo sgruppo di questo progetto perché ci permette di avere delle dotazioni di standard di parcheggi che potrebbe risolvere il problema che purtroppo a Tortorello affligge soprattutto nel periodo estivo quindi naturalmente io penso che sia questo un intervento meritevole che coniuga bene le esigenze del pubblico e del privato in un giusto equilibrio tra quello che deve essere il ruolo del pubblico quello che è un po' il regista ma soprattutto poi chi interviene è il privato quindi tutte queste opere saranno realizzate gratuitamente perché comunque non c'è il contributo del pubblico e noi come amministrazione non possiamo che vigilare affinché queste opere vengano fatte sia sotto l'aspetto qualitativo bene perché poi abbiamo i nostri uffici che controlleranno che le opere dovranno essere realizzate come progetto ma soprattutto anche sotto l'aspetto quantitativo affinché questa dotazione possa migliorare la zona in temi di servizi e di infrastrutture per cui mi sembrava doveroso fare anche questa precisazione per dare anche un senso di quello che stiamo facendo e soprattutto di quelle che sono anche le progettualità che l'amministrazione sta portando avanti nel corso di questa amministrazione con grande impegno ma soprattutto con grande università anche di tutti gli assessori che si impegnano quotidianamente per portare avanti il loro lavoro grazie grazie consigliere qualcun altro vuole intervenire brevissima consigliere cardinale la confusione è duplice da parte sua mi consenta primo trattasi di decreto ministeriale non di legge 1444 e 168 ma netto di ciò la confusione è stata fatta nella misura in cui io non ho per niente messo in discussione la rilevanza dell'opera del privato anzi ho detto che serve proprio a riqualificare quella zona se ci fosse stata una maggiore attenzione e mi sia consentito da parte sua avrebbe colto che il mio rilievo era non sull'opera di urbanizzazione che lo sanno anche i ragazzi al primo anno di ingegneria o di architettura anche un avvocato sa cosa sono le onere di urbanizzazione ma il mio è un rilievo più largo respiro vale a dire sul sistema di parcheggi che noi speriamo possano essere pensati e realizzati per Tortoreto a tutto a 360 gradi grazie presidente grazie consigliere dichiaro chiusa la discussione passiamo alla dichiarazione di voto siamo Tortoreto il consigliere Lanfranco Cardinale favorevoli grazie Tortoreto più il consigliere Libera D'Amelio grazie per cambio a Tortoreto il consigliere Nico Carusi grazie presidente buonasera a tutti i presenti a chi ci segue da casa a chi è presente qui tra i cittadini mi permetto di congratularmi comunque con l'amministrazione che ha svolto un'attività di concerto con gli organi preposti mirata a tutelare un bene storico, culturale, sociale penso che non era scontato quindi di questa cosa sono grato sono contento e felice per il resto vedremo poi attività in itinere a seguito di questa insomma delibera quindi per noi siamo favorevoli grazie consigliere votiamo per approvare il primo punto all'ordine del giorno favorevoli il consiglio approva il primo punto all'ordine del giorno votiamo per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti il consiglio rende l'atto immediatamente eseguibile passiamo al secondo punto all'ordine del giorno costituzione di servitù onerosa permanente e temporanea di metanodotto a favore di SNAM rete gas e società per azioni su terreni di proprietà comunali distinti al catastro terreni del comune di Tortoreto al foglio 18 particelle 73 115 116 4 e 60 9 e 24 relaziona il consigliere Massimo Figliola a perdonatemi relaziona il vice sindaco Arianna del Sordo prego grazie presidente per la parola e buonasera a tutti riferisco io in questo consiglio seppur non presente in commissione perché non componente in quanto delegata al patrimonio quindi parliamo di una costituzione appunto di servitù onerosa in parte permanente in parte temporanea per i consiglieri ecco sono a conoscenza dell'oggetto e anche dei dettagli perché ovviamente è una proposta numero 2 che comunque è stata già attenzionata dalla commissione apposita e quindi illustrata anche dal responsabile dell'ufficio patrimonio dobbiamo dire comunque anche per i nostri cittadini che si tratta appunto di una costituzione di servitù a favore della SNAM rete gas SPA che è una società che appartiene alla holding SNAM e si occupa di trasporto del gas naturale ed opera esclusivamente in Italia con determina 19.849 di novembre 2023 la regione Abruzzo ha approvato il dipartimento esattamente territorio ambiente il progetto relativo al rifacimento del gasdotto denominato rifacimento comune di Tortoreto prima presa DN 150 oltre all'approvazione del progetto c'è stata ovviamente la dichiarazione di pubblica utilità la conformità urbanistica la posizione del vincolo preordinato all'esproprio e quindi tutte le autorizzazioni si tratta della linea che va dalla cabina di compressione di via dei Tassi sino alla cabina di via Fontanelle quindi diciamo la parte alta del nostro territorio comunale e l'ambito di questa realizzazione di lavori e quindi di che abbiamo descritto prima la SNAM si è trovata nella necessità di usufruire sotto forma di atto di servitù permanente appunto dell'occupazione di alcuni piccoli diciamo fustoli di terreno e quindi anche di particelle in realtà di proprietà del comune di Tortoreto nello specifico infatti c'era stata proprio una richiesta formale da parte della SNAM al protocollo 649 dell'8 gennaio 2024 dove veniva richiesta una servitù permanente e temporanea al foglio catastale 18 vengono identificati questi fustoli di terreno le particelle 73 e 460 sono in realtà servitù permanenti corrispondenti proprio alla linea del gasdotto mentre le particelle 115 116 e 924 sono servitù temporanee perché riguardano i cantieri adiacenti appunto alla realizzazione del gasdotto stesso le planimetrie vengono riportate ovviamente in allegato alla proposta di delibera come vengono allegate anche lo schema per quanto riguarda la costituzione a servitù permanente e quindi lo schema di atto pubblico perché sarà appunto eseguito con atto notarile quindi noi con questa delibera in realtà prendiamo atto di quanto prima premesso approviamo anche gli schemi di costituzione di servitù e attorizzazione all'occupazione temporanea precisiamo anche che comunque ci sarà la stipula di atto notarile a cui demandiamo il responsabile ovviamente del patrimonio per tutti gli atti conseguenziali di far parte dell'atto notarile come parte attiva e rappresentante dell'ente comunale quindi la possibilità anche di modifiche necessarie nel contenuto contrattuale tutte invece quanto riguardano le spese relative all'atto e a tutti gli atti conseguenziali sono a carico della società SNAM che avrà a favore appunto la costituzione di servitù permanente e temporanea io ringrazio rimango a disposizione per eventuali dettagli ulteriori dettagli e chiarimenti grazie grazie la curiosità è la seguente la rivolgo più che altro oggi il sindaco mi dovrà perdonare ma quasi una sto facendo un dialogo a distanza con lei il sindaco in realtà la curiosità è la seguente noi già abbiamo parlato in un altro consiglio comunale per quanto riguarda di questa vicenda e poi su questo poi tornerò fra un secondo in realtà la mia curiosità è la seguente io ho apprezzato molto la sua conoscenza minuziosissima di quella che è la nostra realtà tortoretana del nostro territorio quando proprio in sede di commissione urbanistica quando c'era da discutere una variante al PRG lei con una veramente una sapienza certosina da questo punto di vista ha dimostrato di conoscere da buddista mappale anche le stradine i tratteggi più più impercettibili presenti su questa distesa di disegni e segnalci che noi le gulei facciamo fatica a volte anche a capire e qui faccio un rilievo però questo mi deve consentire un rilievo un po' critico vista la sua datata conoscenza della nostra realtà tortoretana leggere in questa nota che è giunta protocollata come diceva il nostro vice sindaco l'8 gennaio 2024 leggere come già anticipato dai nostri incaricati dai nostri incaricati nel corso dei colloqui intercorsi si rende necessario acquisire per la realizzazione e quant'altro una sorventù su questi terreni e aggiunge poiché finora non è stato possibile raggiungere un accordo bonario per la servitura e l'occupazione contemporanea vi informiamo che conseguentemente non trariamo la regione abruzzo che cosa voglio dire signor sindaco che da lei non me l'aspettavo nel senso che noi qui sembrerebbe da qui sembrerebbe e spiego la mia la mia meraviglia il mio stupore sembrerebbe che la sua signoria il comune lei il nostro nostro sindaco sia stato sollecitato da questo punto di vista allora delle due l'una o hanno scritto una questa è indirizzata al comune di Tottoleto quindi no qui non è quindi mi perdoni in realtà allora quindi quello che io ho letto sostanzialmente hanno fatto un'affermazione in veritiera quindi questo lei io questo volevo togliermi questa curiosità perché ripeto visto che il passato consiglio comunale abbiamo fortemente discorso e mi sembrava insomma di capire che c'era una certa disponibilità visto che tra l'altro e qui faccio anche un'altra un'altra notazione nell'altro consiglio comunale lei si rese anche parte diligente nell'affrontare anche nel colloquio con le opposizioni ed essere anche lei paradossalmente il pungolo anche su tavoli titolati regionali anche di maggiore di maggiore pregio anche di aderenza anche su queste tematiche di portare all'attenzione anche altre argomenti altre argomentazioni l'altra volta lei ben ricorderà che si fece cenno anche a quelle che sono le energie rinnovabili piuttosto che eventualmente si parlò anche del nucleare io portai anche alla vostra attenzione anche questa possibilità allora dato che questo gasdotto che se ne voglia dire ha comunque si inserisce capillarmente in quello che è il tessuto connettivo del territorio nostro tortoretano e che se ne voglia dire non è una cosa che viene salutata sempre favorevolmente dai cittadini io nuovamente invito prendendo atto che quindi questo è un refuso evidentemente sbagliato e quindi non ci sono stati progressi contatti con l'amministrazione comunale di Tortoreto io invito nuovamente la maggioranza nella sua persona eventualmente a istituire anche un tavolo di confronto affinché anche in vista di quello che poi sarà un rinnovo regionale qualunque sarà poi il consenso che andrà a sedere nel governo regionale far partire da Tortoreto delle riflessioni critiche ovviamente costruttive affinché il nostro territorio abbia un impatto minore quanto a ingerenza e interferenza in maniera capillare se vogliamo anche nel terreno e a guardare anche ad altre forme anche di energia grazie grazie consigliere la parola al sindaco prego questo è un nuovo metanodotto che dal sud da Lanciano va fino a Ravenna però da una parte prendiamo e una parte togliamo praticamente viene eliminata quella condotta quella conduttura che adesso passa sopra il cimitero ed è spostata dall'altra parte voglio dire non è che è un raddoppio purtroppo qui per la sicurezza perché tutti ci ricordiamo e di questi giorni si sta parlando del processo quando ci fu quel danno che ci fu l'incendio a Atri sulle colline non so lì Atri Pineto lì sopra insomma volevo dire e queste sono due frustoletti che neanche noi sapevamo di avere ma non c'è stato quando sono venuti qua noi abbiamo già approvato a suo tempo abbiamo dato il nulla vostra per il passaggio della condotta poi ci sono stati alcuni il 95% dei proprietari che hanno firmato hanno aderito e hanno fatto e ci sono stati qualcuno che giustamente aveva delle situazioni che il terreno non era apertamente agricolo ma era qualcosa di diverso che si sono opposti a quella valutazione grazie grazie signor sindaco qualcun altro vuole intervenire dichiaro chiusa la discussione passiamo alla dichiarazione di voto siamo Tortoreto Lanfranco Cardinale favorevoli grazie consigliere Tortoreto più mi astengo grazie consigliere cambia Tortoreto il consigliere Nico Carusi favorevoli grazie consigliere votiamo per approvare il secondo punto all'ordine del giorno favorevoli contrari astenuti il consiglio approva il secondo punto all'ordine del giorno votiamo per rendere l'atto immediatamente eseguibile favorevoli contrari astenuti il consiglio rende l'atto immediatamente eseguibile passiamo all'ultimo il terzo punto all'ordine del giorno approvazione del nuovo regolamento disciplinante l'attività di commercio sulle aree pubbliche comprese le aree recanti nel demanio marittimo relaziona la dottoressa e il nostro assessore d'antonio prego grazie presidente per la parola buonasera a tutti allora la proposta di delibera di consiglio comunale numero 3 del 15 febbraio 2024 per oggetto appunto l'approvazione del nuovo regolamento disciplinante l'attività di commercio sulle aree pubbliche comprese le aree decadenti nel demanio marittimo con l'approvazione del nuovo regolamento saranno contestualmente abrogati il regolamento per il commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione di consiglio comunale numero 92 del 20 dicembre del 1985 e il regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 63 del 26 novembre 2009 si rende necessario approvare un nuovo regolamento poiché l'attività di commercio sulle aree pubbliche ha conosciuto una continua evoluzione normativa nel corso degli ultimi anni che ha inciso anche sulla natura dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività commerciale e sulla modalità di rilascio degli stessi il testo del regolamento è stato condiviso con le associazioni di categoria con la trasmissione degli atti in data 12 gennaio 2024 le stesse non hanno fatto alcun rilievo né hanno ritenuto opportuno proporre degli emendamenti il regolamento è stato altresì esaminato dalla commissione consigliare nella seduta del 15 febbraio 2024 giusto verbale numero 1 2024 si ritiene pertanto opportuno proporre a questo consiglio comunale l'approvazione del nuovo regolamento al fine di attualizzare la normativa comunale riguardante l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche sia in forma fissa con posteggio che in forma itinerante colgo l'occasione anche per ringraziare il responsabile l'architetto Di Domenico e contestualmente anche Flavia Ciavatta per il prezioso lavoro svolto nella redazione del regolamento resto a disposizione grazie grazie assessore dichiaro aperta la discussione chi vuole intervenire il consigliere D'Amelio prego grazie presidente io ho delle domande che francamente vorrei fare all'assessore D'Antonio prima l'origine è la razio che genera questa modifica del regolamento e so che non si può fare una sorta di scambio domanda risposta domanda risposta però per agevolare io le faccio tutta una serie di illustrazioni poi eventualmente farò dei rilievi con le repliche se necessari quindi anzitutto capire qual è la razio che ha originato con la necessità di modificare questo regolamento del commercio di poi delle considerazioni si ampia ovviamente anche al demanio marittimo allora anche su questo vorrei fare una domanda perché è di interesse cioè se ci sono state delle concertazioni o delle valutazioni anche esplorative che avete fatto eventualmente in maggioranza per capire in una fase successiva a chi accordare che so delle attività fieristiche o di mercati o d'altro a quali categorie se ne pensate a taluni piuttosto che escludendo ad altri quale criterio eventualmente avete fatto scendere in campo se oppure se indistintamente sul demanio marittimo lo possono fare chiunque questa è un'altra dubbiosità che volevo sottoporle l'assessore altra c'è una sorta di c'è una sorta di scollamento se vogliamo di quello che è il mercato a Lido Tortoreto Lido mi dispiace dover parlare di zonizzazione ma tal è è quello che è un po' a Tortoreto Alto sembra quasi che a Tortoreto Alto ci sia stata una sorta di abbandono e non c'è più una cura un'attenzione una partecipazione anche quindi volevo capire se con questo regolamento e come soprattutto se avete avuto modo di valutare far scendere in campo delle misure atte a far tornare a nuova vita perché sembrerebbe per chi con me ogni tanto si viene a fare anche una passeggiata sembrerebbe che questo mercato a Tortoreto Alto sia andato un attimino un po' deserto altro rilievo che vorrei capire che non mi costa come come specificato esplicitato nella 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 bozza di regolamento che dovremo andare a provare è il seguente l'eventuale valutazione se ciò sia stata fatta da voi altri previsionale di una differenziazione merceologica atta a fare un distinco anche anche dei mercati cioè mi spiego questo mercato sarà generale per tutti quelli che sono i beni di consumo di qualunque categoria merceologica dove si pensa eventualmente di allocare questo mercato unico ovvero si è suddiviso in più parti e soprattutto anche una domanda ultima che le volevo fare perché non ho evidenze insomma immediate ho visto i tempi sostanzialmente da quando insomma entreranno chiaramente in vigore quindi con il distingo estivo e invernale se nell'ipotesi previsionale che ci possa essere un mercato di genere alimentare un mercato eventualmente per altri beni di consumo se questi diciamo orari resteranno uguali per entrambe le tipologie di mercati grazie grazie consigliera qualcun altro vuole intervenire allora do la parola all'assessore d'antonio per la replica prego meglio iniziamo dal dal primo rilievo poi magari mi dice se lascio qualcosa perché ho preso un po' gli appunti allora la razza dell'approvazione del nuovo regolamento la razza principale è che l'ultimo regolamento sul commercio del comune di Tortoreto ha quasi 40 anni quindi direi che è abbastanza obsoleto superato è ormai inapplicabile quindi la razza principale è quella per quanto riguarda poi il fatto che questo regolamento comprenda anche l'attività di commercio riguardanti sul demanio marittimo abbiamo ritenuto opportuno appunto unire in un unico regolamento quindi includere anche le aree del demanio marittimo perché è la stessa legge regionale il testo unico sul commercio del 2018 che appunto in essa è ricompresa anche il commercio sulle aree dei maniali ricadenti sulle aree dei maniali e perché appunto la previgente disciplina normativa è stata abrogata che era la stessa che appunto su cui si basava il regolamento sul commercio ricadente sulle aree del demanio marittimo poi ogni anno noi solitamente facciamo fine anno una delibera di giunta dove approviamo i criteri per base insomma ai quali poi il responsabile del settore commercio predisporrà un bando con propria determinazione per la concessione dei posteggi appunto ricadenti nelle aree del demanio per quanto riguarda invece il mercato a tortoreto alto il mercato a tortoreto alto il mercato settimanale non è più presente da diverso tempo da più di penso di più forse più di quasi 20 anni quindi ecco probabilmente perché insomma diciamo c'è poco interesse per da parte delle associazioni di categoria lo ritengono magari poco appetibile però ecco io come con delega al commercio sto cercando un attimo di ristimolare un po' l'interesse verso il centro storico proponendo appunto anche diciamo il mercatino quello della domenica durante il periodo estivo speriamo insomma di riattivare un po' di movimento insomma anche per tortoreto alto per quanto riguarda invece la valutazione della la valutazione circa la differenzazione in base alla categoria merceologica allora attualmente sul regolamento appunto è scritto che il mercato settimanale si trova presso via Archimede questo regolamento ci permette diciamo che è un primo passo per poi innanzitutto pensare a una riqualificazione del mercato e eventualmente ove possibile e se migliorativo solo se migliorativo pensare a un eventuale spostamento e quindi sicuramente si procederà a una riqualificazione la riqualificazione nel senso di suddividere appunto il mercato per categorie merceologiche quindi suddividerlo dall'alimentare dal non alimentare infatti anche diciamo nei vari articoli quando riguarda il subingresso ma anche per quanto riguarda diciamo la la cessione del posteggio abbiamo ribadito in ogni casistica che appunto sia la vendita che il subingresso deve fare riferimento la medesima categoria merceologica poi per quanto riguarda gli orari quelli indicati sul regolamento fanno riferimento esclusivamente al mercato settimanale e sono distinti appunto in base ai periodi dell'anno grazie assessore consigliera D'Amelio prego se fosse stata una domanda dell'attualità mi sarei dichiarata non soddisfatta mi deve perdonare perché se come giustamente diceva è vetusto di 40 anni e lei giustamente stava poc'anzi dicendo che si sta adoperando per una riqualificazione per cercare di ridare animo a Tortoreto Alto che appunto insomma ricordo erano forse anche più di 20 anni forse più di 20 anni allora intanto rifaccio il regolamento in quanto vado a riqualificare qualcosa diversamente cioè è vetusto cambio qualcosa e cerco anche di apportare qualcosa di nuovo mi sembra francamente che al di là di una nominalistica modifica inserimento e quant'altro ci sia poco è chiaro che va inserito il demanio marittimo e su questo mi deve consentire io avevo proprio fatto una richiesta anche di chiarimento su se ci sono eventualmente da par vostro una criterio preferenziale per accordare a taluni tipologie di mercato piuttosto che altro che ne so antiquariato piuttosto che vendere la pizza faccio per dire sul demanio marittimo quindi volevo capire se anche questo tipo di valutazione era stato fatto perché mi sembra ancora un cantiere in opera quindi si muta un regolamento vetusso di 40 anni che non è stata fatta alcuna riqualificazione perché è stato completamente trascurato Tortoreto Alto si guarda eventualmente a Tortoreto Lido in fiere si pensa eventualmente ad un distinguo di categorie merceologiche alimentari non solo e ricordo a me stessa che noi facevo una domanda ad attualità tempo fa giusta la problematica con il covid e mi venne risposto così è e così resta oggi sono contenta che avendolo detto oggi potrebbe domani diventare patrimonio anche di conoscenza e quindi di applicazione da parte della Giunta e quindi si possa finalmente anche dare seguito a questo ennesimo suggerimento che già qualche mese fa noi abbiamo fatto scendere in campo quindi risposte francamente da questo regolamento così modificato non non ne ho avuto e anche le avevo chiesto assessore eventualmente se e mi ha dato una parziale risposta eventualmente si valuta di dividere il mercato da un settore rispetto a un altro dove allocarlo perché anche questo intanto cambia i regolamenti in quanto già penso a come farlo altrimenti mi deve perdonare faccio la considerazione che ho fatto prima stiamo discettando del sesso degli angeli non abbiamo concretamente nulla cioè non è cambiato sostanzialmente nulla se non gli orari non c'è cambiato per adesso sostanzialmente nulla quindi capire concretamente se cambiamento ci deve essere con un regolamento vetusto in che cosa si sostanzia questo cambiamento poi mi taccio perché lei lo saprà meglio di me perché ha detto che giustamente gira il territorio avrà sentito gli esercenti commerciali e mi consta che proprio in via Archimede ci sia una problematica sempre più emergente cioè di i titolari di attività commerciali lamentano il fatto che quando vengono allocati gli stand tutti i banconi di varia sorta in qualche misura c'è un restringimento non solo anche proprio della stessa visuale si crea una specie di effetto barriera è chiaramente col mercato chi diventare nel negozietto piuttosto che in un altro vi dicendo c'è una problematica effettiva allora e domando se sono stati fatti dei controlli delle verifiche ma ripeto a guarintigia sia di chi occupa chiaramente gli stali sia soprattutto degli esercenti commerciali per vedere se insomma c'è una rispondenza al vero perché lei come le ho raccolto io le lagnanze dei commercianti che hanno attività in via Archimede immagino che le abbia raccolte anche lei e allora e concludo è una modifica o un regolamento nominalistico che poi nei fatti non cambia assolutamente nulla nuovamente mi si dice valuteremo domani se succede questo se succede quello se succede quello allora se dobbiamo fare delle modifiche ai regolamenti solo perché ci hanno 40 anni ci saremmo risparmiati questo punto all'ordine del giorno grazie grazie consigliera la parola all'assessore D'Antonio prego il regolamento mi sembra opportuno e doveroso per porre in essere tutti gli atti successivi e conseguenziali che poi appunto l'amministrazione riterrà opportuni e anche perché forse lei lo sa meglio di me ma attraverso il regolamento non possiamo insomma fare atti gestionali ma è solo una guida per appunto porre in essere gli atti successivi quindi a seguito poi delle opportune valutazioni sia diciamo di natura tecnica perché soprattutto quelle si devono fare per un eventuale spostamento del mercato ma anche per la riqualificazione perché la legge ci impone il rispetto di alcuni requisiti solo dopo quel momento e solo dopo eventualmente aver individuato una zona idonea che rispetta tutti i requisiti allora potremmo deliberare magari fare un atto di indirizzo dove appunto dare l'indirizzo al responsabile di procedere con lo spostamento del mercato fare il bando e tutto il resto stessa cosa per quanto riguarda il caso in cui non sia possibile procedere allo spostamento perché magari non troviamo la zona idonea che appunto va a tutelare tutti gli interessi coinvolti dei commercianti dei residenti eccetera quindi magari si deciderà di procedere a una riqualificazione del mercato stessa cosa era necessario appunto procedere all'aggiornamento del regolamento per affinché poi gli uffici potessero predisporre gli atti per rifare il bando e tutto il resto per quello che ne conseguo insomma anche per la riqualificazione per quanto riguarda le lamentele e gli archimede sì le ho sentite anch'io ma non troppe e i controlli ci sono tutti i sabati mattina c'è un agente di polizia municipale che va a verificare appunto tutte le condizioni del mercato e rispetto dei limiti e tutto insomma il controllo che fa ogni sabato mattina e sicuramente verifica anche che non ci siano appunto queste queste chiusure e niente grazie assessore dichiaro chiusa la discussione passiamo alla dichiarazione di voto siamo a Tortoreto il consigliere Lanfranco Cardinale favorevoli grazie consigliere Tortoreto più il consigliere Libera D'Amelio mi assengo perché mi sembra assolutamente inutile questo regolamento grazie consigliere per cambio a Tortoreto il consigliere Nico Carusi favorevoli grazie consigliere passiamo alla votazione per approvare il terzo punto all'ordine del giorno favorevoli contrari astenuti il consiglio approva il terzo punto all'ordine del giorno votiamo per rendere il terzo punto immediatamente seguibile favorevoli contrari astenuti il consiglio rende immediatamente seguibile il terzo punto all'ordine del giorno sono le ore 19 14 la seduta è conclusa grazie a tutti per la collaborazione grazie a tutti